RISPONDA, RISPONDA, BANITO Clipper e Tigliani L'ANIMA DELLI MORTACCI TUA Sul fatto Non parlare della sua storia discutibile Contro Rosa Chemical e Fedez Sul fatto che non è la direzione In cui lui si sente rappresentato Da Il futuro della società Cose Penguin Il futuro dell'Italia Il futuro della nostra generazione Non deve essere rappresentato Se tu non ti senti parte di qualcosa O rappresentato da qualcosa Partiamo dal presupposto che ognuno Si può esprimere come cazzo gli pare Giusta per tutti Ti faccio questa piccola Se tu sei Contro certe cose Non ti piacciono certe cose Non è detto che tu abbia ragione Ti faccio questo grande spoiler Assurdo eh Però abbiamo la cosa Che possiamo dire E il penguin Risponde Vedete dove lo tocca? Dove sa che gli può far male Grazie per aver Grazie per aver Espresso la tua opinione Blur Il penguin Sa che lo tocca Su sta cosa Infatti poi Manuxo risponde E dice Ve lo leggo La storia di Manuxo Allora il tuo commento Da NPC Che manco guarda le mie stream E ride da solo Sbattendo le mani Chiamandomi Blur Senza alcun tipo di fondamenta In questa Assersione Tra l'altro Non dimostra altro Che non sai cos'altro dire E vuoi solo prendere I consensi di gente Che lo fa da mesi Senza neanche un motivo valido Insegnami a giocare 10k Sulle quote 1 e 19 Per il meme E vantarti di aver fatto 2k Dicendo Anche che metà degli italiani Non li fa Neanche in un mese Raccontami di quanto Ti ha fatto schifo Il bacio del rosa Chemical e Fedez E quanto non ti senti Rappresentato Da queste bruttissime cose Come i baci Però facendo sta storia Eh che ho fatta La barba Sta buono Facendo sta storia Però regà Lui fa capire Che c'è Su sta cosa C'è sta pezzi Eh O devo dire Facendo Secondo me sta storia Cioè se Cioè la gente sa La gente sa Ahimè Se vuoi rompe il cazzo Cioè se mi vuoi rompe il cazzo A me Mi fai battute su A Lazio A Roma A Lazio Che a me mi dà fastidio Cioè a me Mi fotte un cazzo Tipo Quanto pesi Quanto sei grasso Letale Cosa Eccetera eccetera A me se mi vuoi fare rosicare Mi parli da Lazio Da Roma A me Lì mi fai rosicare E la gente lo sa Perché mi fa tutte Battute su A Roma Su A Lazio E io rosico E mi imbizzarrisco E Manuxo sa E Manuxo Invece lo vuole toccare Su sta cosa Ieri live da Blur Manuxo ha continuato A dissarro al Peng Sì Praticamente cosa ha detto Vabbè Mo ve faccio vedere Un piccolo strato Da live da Blur A me pare No è un gruppo Telegram serio Stavolta Non è di porno Roba così Devi sentire solo me Adesso in poi Praticamente il nome Il gruppo Si chiama I consigli del Peng Loose E si giocano tutto Il contrario di quello Che gioca il Penguin E stanno cassando Da una settimana Quindi grossi applausi E mi hanno fatto fare Anche stasera A mille euro Grazie Grazie O meglio Fabbino Grazie mille per il 18 Carlo Grazie mille per te Il porca in Toscana Però farite Vabbè Il Peng Loose Oh mi farite Che dice luce luna RISPONDA RISPONDA BANITO Clipper e Tigliani L'anima degli mortacci Tua RISPONDA